Nulla è stato fatto per mettere in sicurezza il territorio al fine di scongiurare i seri danni causati dall'esondazione del torrente Mela. E quanto asserisce il Comitato Cittadino di Bastione che ha scritto al sindaco di Milazzo Giovanni Formica. I due eventi calamitosi del 22 novembre 2011 e del 10 ottobre 2015 hanno seminato danni e paura, ma nonostante sia trascorso un notevole lasso di tempo, la gente è ancora in attesa di sapere quando saranno effettuati gli interventi necessari e soprattutto chi dovrà provvedere ad effettuarli. Interventi che riguardano in particolare la chiusura dei varchi usati come ingresso per scaricare poi rifiuti e materiali di risulta di ogni genere. Inoltre, la bonifica con la pulizia del Greto e il ripristino degli argini. Una situazione che non può più aspettare, per la quale il Comitato chiede adesso la convocazione di un incontro con tutti i soggetti interessati, ovvero provincia regionale di Messina, ESA, Ispettorato Forestale, Genio Civile, Protezione Civile e i comuni di Barcellona Pozzo di Gotto, Merì, San Filippo del Mela e Santa Lucia del Mela. L'incontro dovrà definire tutti gli interventi necessari nell'immediato e nell'attesa che venga redatto e reso esecutivo il progetto definitivo per mettere in sicurezza il torrente Mela, così da dare risposte concrete agli abitanti di Bastione.